Buonasera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. Parliamo di cronaca giudiziaria in apertura, semi in libertà per Peter Polverini. Si tratta del 31enne di San Giustino Umbro, assassino reo confesso di Katia Dello Marino. Ce ne parla Chiara Sadotti. A sette anni dall'omicidio di Katia Dello Marino, il suo assassino reo confesso è in regime di semi libertà. Peter Polverini, in virtù del comportamento irreprensibile tenuto all'interno della casa circondariale e anche in considerazione del precedente status di incensurato, quattro giorni al mese potrà uscire dal carcere di Orvieto dove sta scontando la pena a 14 anni e potrà incontrare familiari ed amici. Una notizia che la famiglia di Katia ha accolto con profonda amarezza ed elusione. L'omicidio si consumò nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2016. I due si appartarono in una strada bianca, ma la serata degenerò in una violenta lite per questione di soldi, appena 10 euro. Peter Polverini, all'epoca 24enne, prima la malmenò, poi si scagliò contro di lei con un martello, uccidendola. Infine l'abbandonò sul greto del torrente Afra a Sansepolcro. Dopo il delitto ripartì e tornò verso casa disfacendosi anche dell'arma gettata in un cespuglio. I carabinieri risalirono a lui dopo una lunga estate di scrupolose indagini. Venne arrestato due mesi dopo, il 16 settembre 2016. Il 30 gennaio 2020, l'ultima fase processuale nei suoi confronti, quando la Cassazione confermò la sentenza d'appello, 14 anni di condanna per l'omicidio della donna. Forza il posto di blocco, ma perde la targa. 31enne rintracciato dalla polizia municipale di Cortona, è caduto intorno all'una e mezza della scorsa notte nei pressi di Camucia. Il 31enne, per eludere i controlli degli agenti, è finito per scontrarsi con un palo dell'illuminazione pubblica. L'uomo è comunque riuscito a far perdere temporaneamente le proprie tracce in modo roccambolesco. Nelle concitate manovre di allontanamento a causa dell'urto con il lampione, il suo veicolo ha perso la targa. Alla polizia municipale non è rimasto quindi che raccoglierla e rintracciarlo. L'uomo rischia la sospensione della patente fino a due mesi e dovrà risarcire tutti i danni provocati. E' ancora un incidente questa mattina ad Arezzo, a Salleo, alle porte della città, coinvolta anche una macchina della polizia. Vediamo. Incidente alle porte di Arezzo, uno schianto all'incrocio tra via di Salleo e via Fiorentina. E' successo pochi minuti prima delle 11 in un'arteria particolarmente trafficata. Tre i mezzi coinvolti nello schianto, tra questi anche un'auto della polizia di Stato. Sul posto immediato l'intervento dei sanitari dell'emergenza urgenza, con due ambulanze e un'auto medica. E' intervenuta anche la polizia municipale di Arezzo per regolare il traffico e per i rilievi di legge. Dovrà essere adesso stabilita l'esatta dinamica dell'incidente. E ieri pomeriggio, poco dopo le 16, si era verificato un incidente sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e che ha causato forti disagi al traffico e agli automobilisti, costringendo la società autostrade a chiudere fino alle 20.30 il tratto tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Stasera, per consentire i lavori di ripristino danni, quel pezzo di autostrada sarà chiuso di nuovo dalle 23 fino alle 6 di domattina, sempre in direzione Roma. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione del Valdarno, viene indicato di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla 1 alla stazione di Arezzo. Un incendio boschivo è scoppiato in tarda mattinata in località Montelabreve nel comune di Badia Tedalda. A generarlo, a quanto pare, è stato un cortocircuito in un palo di un elettrodotto Enel in una zona boschiva ed impervia dove sorge un impianto eolico. Molto presto, complice il caldo di questi giorni e la pendenza, l'incendio si è allargato in una zona diradata fino ad interessare il bosco, colpendolo una superficie totale di circa 1.500 metri quadri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento di Sansepolcro, mezzi del comando provinciale di Arezzo, l'elicottero Drago dei vigili del fuoco e due squadre dell'antincendio boschivi della regione toscana. L'incendio, prontamente spento all'arrivo delle prime squadre sul luogo dell'evento, ha richiesto successivamente alcune ore per le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Sul posto sono giunti anche i tecnici Enel per verificare la linea elettrica. E partiranno lunedì i lavori sulla palazzina Cadorna di piazza Amintore Fanfani, un intervento da oltre un milione di euro. Vediamo. Un intervento da oltre un milione di euro per il restyling dell'area ex Cadorna nel cuore della città di Arezzo. Partiranno infatti il prossimo lunedì i lavori sulla palazzina di piazza Amintore Fanfani, un intervento di ristrutturazione per recuperare l'immobile. Si tratta dei lavori inclusi nell'otto 1 che interesseranno la facciata, l'installazione di linee vita per tutta la superficie della copertura e la risistemazione della pavimentazione esterna dei due portici di collegamento tra i tre edifici. Un intervento che prosegue quelli di recupero già effettuati nelle palazzine B e C, attualmente sede degli uffici comunali e che sarà finanziato con fondi ministeriali provenienti dal bando PNRR. Un passo in avanti concreto nei piani di razionalizzazione che l'amministrazione intende realizzare con l'accorpamento di uffici e servizi, ha dichiarato l'assessore Alessandro Casi, in grado di generare benefici in termini di riduzione dei costi di gestione e tempi di spostamenti per l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, per aumentare la fruibilità e l'accessibilità del servizio al cittadino, oltre che per valorizzare gli immobili storici di proprietà. È stato deciso di realizzare in due step la fase di canterizzazione. Il primo interesserà i lati che affacciano rispettivamente sul piazzale interno e sull'ingresso principale al parcheggio, il secondo invece su quelli che danno su Palazzo Tele come Porta Buia. Un programma che consente e conclude l'assessore Casi di rendere temporaneamente inagibile solo un numero limitato di stalli, garantendo così il minor disagio possibile ai fruttori del parcheggio Cadorna. E domani dalle ore 18 all'esterno della chiesa di San Severo ad Arezzo, lungo la strada panoramica di Poti, si svolgerà ricordo di un eccidio, un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista del 14 luglio del 1944, che è una strage che sconvolse la pace nella località dell'Alpe di Poti. I 17 furono le vittime che avevano un'età compresa tra i 17 e i 67 anni. Ancora oggi un monumento in pietra e marmo di fronte alla chiesa romanica di San Severo ricorda quel crimine. Per l'occasione la band Casa del Vento proporrà alcuni brani del suo repertorio, compresa la canzone Notte di San Severo. Durante l'evento sarà allestita anche una mostra fotografica di Lorenzo Nasi. Il pomeriggio si concluderà con una merenda a offerta, il cui ricavato andrà a sostegno di ricordo di un eccidio. Appuntamento estivo che intende ridare voce a quelle persone che morirono o rimasero segnate per sempre dalla strage nazista. E adesso andiamo in Valdichiana, Castiglione Fiorentino, una fattoria che accoglie piccoli roditori abbandonati. Il servizio. Il sogno era quello di creare una struttura per tutti quei conigli che non vuole nessuno, cioè quelli troppo grossi, quelli bianchi con gli occhi rossi che tanti hanno paura. Si chiama Bunny Love ed è una fattoria del tutto speciale. Qui infatti vengono recuperati conigli e piccoli roditori abbandonati. Si trova a Castiglione Fiorentino, in provincia di Arezzo. Laura ha deciso di aprire questa fattoria e di cambiare la sua vita a seguito di un incidente. Tutto così è nato dal salvataggio dei primi due conigli. E da lì mi sono resa conto veramente, anche per altre problematiche di salute che ho, che la vita è una e quindi quando c'hai un sogno lo devi fare. Qui Laura ha già accolto oltre 60 roditori tra conigli, cencillà, porcellini d'India e cricetti. Quando entri in questo mondo in automatico ti risucchia. Ti risucchia le emergenze di tanti conigli cuccioli che vengono comprati in negozi, in cappannoni grossi e poi riportati indietro perché pensano che non c'hanno bisogno di cure, che non fanno bisogno. Allora arrivo e inizia l'inserimento separando ovviamente maschi e femmine, quindi effettuati controlli veterinari e sterilizzati. Adesso molti di loro cercano una famiglia. Ha anche un carattere particolare il coniglio perché all'inizio è molto molto diffidente, ma se tu lo conquisti è proprio un amore fedele. Laura per portare avanti il suo sogno ha bisogno dell'aiuto di tutti. C'ho un IBAN, c'ho il Paypal, insomma c'è un sacco di cose collegate alla fattoria. Ma aiuto anche se chi viene qui che magari, che ne so, mi porta un po' di lenzuoli di coperto oppure va a comprare un sacco di pellet, quello per la stufa. C'è tanti modi di aiutare. E restiamo in Valdichiana, ma andiamo a Cortona, dove ha aperto la tredicesima edizione del Festival Internazionale di Fotografia. Cortona on the move. Le mostre declinano quest'anno il tema di More or Less, un tema che affronta la contrapposizione tra scarsità e abbondanza, esplorandolo sotto tanti punti di vista e sotto tanti sguardi. Ad interpretare la dicotomia tra più e meno, per la tredicesima edizione di Cortona on the move, il Festival Internazionale di Fotografia, 30 artisti per 26 mostre, tra il Centro Storico, la Fortezza del Girifalco e la Stazione C di Camucia, all'interno della Fortezza del Girifalco, la mostra Standing Still del grande maestro Massimo Vitali. La mostra è presentata per la prima volta nella sua interezza a Cortona e il Caso Africo, dall'archivio Publifoto di Intesa San Paolo. E poi, per afforzare ancora di più il legame con il territorio, una collaborazione con Autoline Toscane, che mette a disposizione un autobus su cui ospitare la mostra del fotografo italiano Marco Garofalo, incentrata sulle periferie e sulla musica trap come riscatto sociale. Anche una mostra di Fausto Podavini, in collaborazione con Medici Senza Frontiere, per raccontare il cambiamento climatico. Tra i nomi della fotografia internazionale che partecipano a questa edizione, Larry Fink, il re statunitense del bianco e nero. Un fotografo americano straordinario, ultraottantenne, il quale ha documentato nella sua lunghissima carriera, dai grandi del jazz fino ai beatniks, e in questa mostra in particolare è una mostra perfetta per More or Less. Larry fotografa le feste, le feste VIP degli Oscar, che aveva fatto per tutti gli anni 90 per Vanity Fair, dove in qualche maniera è veramente una fiera delle vanità. Non sono quelle persone famosissime che riconosciamo nelle foto che lui fotografa, sono degli attori di questa fiera delle vanità. E questo è messo in contrapposizione con una famiglia che sono vicini di Larry Fink nella Pensilvania rurale, che è una famiglia particolarmente povera. E la contrapposizione nella maniera in cui Larry li fotografa e ce li porta a far vedere a Cortona è veramente il nucleo focus di questa mostra. Torniamo ad Arezzo, parliamo della giostra del Saracino, perché sono scaduti oggi alle 13 i termini per la presentazione del bozzetto relativo alla realizzazione dell'impugnatura della lancia d'oro da assegnare al quartiere vincitore della 144esima edizione della giostra del Saracino. In programma il prossimo 3 settembre è dedicata al centenario dell'Arezzo Calcio. Sono 23 i progetti pervenuti all'amministrazione comunale. Nelle prossime settimane la commissione giudicatrice selezionerà tra le opere presentate il bozzetto vincitore dal quale il maestro intagliatore Francesco Conti realizzerà il trofeo che i quattro quartieri si contenderanno in Piazza Grande appunto il prossimo 3 settembre. E rimaniamo in Piazza Grande dove ieri sera è tornata la cena in bianco di Arezzo. Quest'anno numeri record erano in Piazza infatti 700 commensali. Vediamo. In Piazza Grande è difficile sbagliare con una cornice così e soprattutto con una partecipazione di pubblico di questo genere il risultato non può che essere questo una serata straordinaria come ne abbiamo fatte tante a Livorno, a Pista, in tutta la Toscana ma questa qui di Arezzo in Piazza Grande in bianco ha un sapore tutto particolare. Oltre 700 commensali tutti rigorosamente vestiti di bianco seduti attorno ad una candida tavola bianca imbandita sul mattonato di Piazza Grande. Senz'altro un colpo d'occhio di grande suggestione. Nel cuore della città è così tornata la cena bianca di Arezzo con una cifra record per la quarta edizione. Cinque locali mobilitati sotto la regia unica di Confcommercio. Arezzo sta crescendo molto, sta crescendo da un punto di vista turistico sta crescendo da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale e noi siamo contenti perché come diciamo con il nostro slogan Confcommercio c'è. Una piazza grande nella sua migliore veste con un prato di erba vera di oltre 330 metri quadri olivi secolari ed altre decorazioni green che resteranno sino alla prossima domenica. Ma devo dire che Arezzo stasera spolvera il suo abito migliore quello di un'eleganza che si concretizza in uno scenario bellissimo nella piazza Vasari, la piazza grande di Arezzo. Di questo straordinario personaggio che fu il vero ispiratore della nascita della Toscana moderna il vero ministro della cultura di Cosimo I de' Medici di Giorgio Vasari festeggeremo il prossimo anno nel 2024 i 450 anni dalla morte avvenuta il 27 di giugno del 1574. Facciamo grandi cose, facciamo all'ombra e all'insegna del Vasari quello che merita Arezzo per essere una delle grandi città della cultura e del richiamo turistico in Toscana. E sempre in piazza grande da giovedì 20 a lunedì 24 luglio torna per la seconda edizione Arezzo Moonlight Festival. Undici incontri letterari, dodici libri ed altrettanti noti autori per la seconda edizione di Arezzo Moonlight Festival. Torna da sabato 20 a lunedì 24 luglio in piazza grande l'iniziativa organizzata da Confesercenti Arezzo con Feltrinelli Point e Claridea con il patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Arezzo. Sulla scia dell'anno scorso abbiamo voluto di nuovo impostare il cartellone in una comunicazione diciamo di generi e personaggi vari che possono interessare un pubblico variegato. Ci sarà Flavio Caroli che è uno dei più importanti esperti d'arte a livello nazionale ed internazionale degli ultimi decenni di anni d'Italia. Ci sarà Maurizio Di Giovanni uno dei nomi fortissimi della giallistica italiana appunto non solo in Italia ma nel mondo e ci sarà Alan Elkan il popolarissimo giornalista uno dei patron della famiglia Elkan ma poi Enrico Galiano Carlo Piano torna a trovarci Scinzia Leone quindi insomma sono veramente tantissimi diciamo gli ospiti d'onore. Quest'anno è un appuntamento che diciamo si arricchisce moltissimo perché oltre alla parte culturale legata alla presentazione dei libri abbiamo anche un mercato molto bello su Piazza Grande dove si potranno vedere insomma tanti prodotti artigianali e agroalimentari del nostro territorio quindi sarà un'occasione diciamo doppia di svago e di divertimento anche perché poi ci saranno degli spettacoli molto belli sulla piazza da giovedì alla domenica e quindi sarà un'occasione per venire nel centro fare acquisti e potersi divertire. Un doppio appuntamento ogni giorno sulla terrazza del Palazzo di Fraternita con autori di fama nazionale ed internazionale a partire dalle 18 sino alla mezzanotte. A me fa molto piacere che questa organizzazione portata avanti da Confesercenti possa realizzarsi nella terrazza un luogo dove si svolge la cultura. Uno dei fondamenti istituzionali della Fraternita è la tutela culturale e questa noi la realizziamo con questo programma intenso e molto qualificato. Ruzika Markovic è stata la voce di rondine al Consiglio dei Giovani del Mediterraneo che si è insediato in questi giorni a Firenze. 40 giovani provenienti da 19 paesi nell'area indicati dalle rispettive conferenze episcopali o sinodi delle chiese orientali cattoliche che per la prima volta si sono riuniti per portare il proprio contributo e la visione delle giovani generazioni nell'ambito dell'iniziativa che si protrarrà fino al 17 di luglio. E adesso parliamo di un evento culturale Erzilia, Circo delle Città Invisibili sarà ad Arezzo nelle giornate di domani e domenica dalle 17 alle 20 e 15 con una versione site specific creata appositamente per gli spazi della Fortezza Medicia. Un doppio appuntamento ideato da Sosta Palmizzi in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che invita il pubblico di tutte le età in un percorso poetico e stimolante in uno dei luoghi simbolo della città. Ce ne parla Edoardo Carrai. Che tipo di spettacolo andremo a vedere? Quello che andrete a vedere è uno spettacolo itinerante e partecipato dove il pubblico insieme ai performer andrà a costruire la scena che poi verrà esperita da tutti. Praticamente toccherete più parti della Fortezza. Ci sposteremo in quattro spazi della Fortezza e in ogni spazio, utilizzando il linguaggio del circo contemporaneo, costruiremo delle piccole città. L'opera infatti è legata alle città invisibili di Italo Calvino, quindi a una narrazione legata al rapporto uomo-natura, alle relazioni umane e all'espandersi di queste città contemporanee. Avete subito pensato che ricorreva qualcosa di particolare per Calvino? Sì, sono i cent'anni della nascita di Calvino e quindi ci è sembrato un bello omaggio poter portare le sue parole in una dimensione invece più fisica, concreta e materica e quindi utilizzarle e trasformarle in un linguaggio che è nostro, che è quello della scena dal vivo. In questo modo riuscite anche a trasformare gli spettatori in protagonisti? Sì, gli spettatori vengono coinvolti direttamente, entreranno nelle scene e parteciperanno alla trasformazione di ogni performance. Lo spettacolo è uno spettacolo onirico, in qualche modo immaginifico, che vuole lanciare uno sguardo sul futuro e anche raccontare e vivere quello che è il mondo di oggi e le relazioni tra noi esseri umani e quello che ci circonda. E in chiusura del nostro telegiornale una notizia di sport. Lorenzo Amatucci domenica sarà in campo con la nazionale Under-19 per giocarsi il titolo europeo contro il Portogallo. Gli azzurrini ieri sera hanno battuto la Spagna 3-2 in una semifinale ricca di colpi di scena con un secondo tempo emozionante e spettacolare. Originario di Subbiano, punto di forza della primavera della Fiorentina, Amatucci ieri è stato inserito dal CT Alberto Bollini nei concitati minuti conclusivi della sfida. Titolare all'esordio contro i padroni di casa di Malta, il centrocampista classe 2004 è partito dalla panchina negli altri tre incontri. Domenica si candida per un posto nell'undici iniziale. Di fronte ci saranno i lusitani che nel girone di qualificazione hanno inflitto agli azzurri una pesante sconfitta per 5-1. Ma stavolta potrebbe andare diversamente. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.